... Possiamo partire dall'allenamento a porte aperte, dal fatto che di solito sono delle occasioni per ricevere un abbraccio da parte dei tifosi. Ve lo aspettavate, quel tipo di accoglienza? Quanto vi ha fatto male? Tra l'altro detto da uno dei pochi, forse l'unico, che non è stato contestato. Sicuramente ce l'aspettavamo. È chiaro che non fa piacere, perché ognuno di noi cerca sempre di dare il massimo e di esprimere al meglio le proprie qualità. Purtroppo in questo momento le cose non stanno andando per il verso giusto. Tutti quanti noi sappiamo quello che sta accadendo e sappiamo benissimo che il tifoso palermitano è deluso. Però in primis siamo noi i primi a essere delusi perché non riusciamo a dare sul campo quello che riusciamo a fare. Per quanto riguarda il resto, il sottoscritto, chiaramente mi ha fatto piacere ricevere dei cori. Però è anche vero che infatti non ho fatto nessun gesto, non ho neanche mai guardato verso la tribuna per rispetto dei miei compagni, per chi è stato insultato, perché quando il Palermo va bene è giusto che tutti quanti vengano acclamati, quando va male è giusto che tutti quanti vengano ripresi. Quindi io faccio parte del Palermo, ti ripeto, a livello personale mi ha fatto piacere. Però è chiaro che in questo momento tutti quanti noi dobbiamo portare il Palermo alla salvezza, quindi come dico sempre bisogna portare la barca in porto. E tutti quanti noi, chi più o chi meno, darà il proprio contributo per provarci. Domanda scolastica, in matematica come andavi? Non tanto bene. Analisi logica? Peggio ancora. Perfetto, quindi la matematica dice che il Palermo si può salvare, la logica un po' meno. Sì, esatto, hai detto bene. È chiaro che, l'ho detto prima, è un'impresa, nove partite nelle quali poi dopo incontriamo le prime 4-5 squadre del campionato, quindi se pensiamo che il Palermo ha vinto solo tre partite dall'inizio dell'anno, nessuno scommetterebbe un centesimo. Però è chiaro che queste nove partite vanno giocate. Come io dico sempre, a quel punto che bisogna giocarle, giochiamole al massimo. Poi dopo, quello che viene, ormai siamo in una situazione tragica. Quello che viene in più è tutto di guadagnato. Tanto per il tifoso palermitano, per l'ambiente, per tutta l'Italia, ormai siamo retrocessi. Quindi perché non provare invece a tirarci fuori, a provare almeno fino alla fine di fare questo miracolo sportivo? Io ci credo come ci credono i miei compagni di squadra. È chiaro che, ti ripeto, non è una situazione semplice, però noi ora abbiamo nove partite da giocare alla morte. Tra l'altro è un patrimonio questa Serie A con Zamparini che ha comunque detto Ragazzi, non vi preoccupate perché nonostante la retrocessione, qualora dovesse esserci la retrocessione, faremo un palermo più forte di prima e soprattutto la società dice ripartiamo da Sorrentino. Qualche soldino ancora al Chievo dobbiamo darlo. Sì, è chiaro. Io sono in prestito con diritto di riscatto, quindi la società dovrà riscattarmi. Nel momento in cui lo farà, poi dopo si vedranno tante cose, però adesso, come ho già detto la settimana scorsa, parlare di futuro mi sembra un po' sbagliato. Mi sembra di mancare un po' di rispetto a queste nove partite che mancano alla fine e la speranza ancora di poterci salvare. Io sono venuto qua sapendo che la situazione era molto difficile e vengo da una realtà dove c'è molta tranquillità e dove c'erano 10-15 punti in più. Appunto per questo... Il famoso chi te l'ha fatto fare, no? Sì, in tantissimi. Però ecco, fino alla fine, finché c'è speranza, finché la matematica non mi condanna, io voglio provarci. Poi dopo, come ho detto prima, il campo dirà chi aveva ragione. Poi una volta che è finito il campionato, una volta che vedremo il Palermo in che serie sarà, parleremo di futuro in maniera serena e tranquilla come è sempre stato. Grazie a tutti.